I primi dieci mesi del 2023 confermano una capacità reattiva del porto di Trieste e segnano un incremento a doppia cifra per Monfalcone. E quanto emerge dai dati diffusi dall'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, sottolineando che nonostante lo scenario economico globale sia dominato da estreme incertezze, il sistema registra perdite lievi. Nei dieci mesi lo Scalo Giuliano ha movimentato oltre 46 milioni e 700 mila tonnellate di merce, con una perdita dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Andamento positivo, più 1,7%, con 31 milioni e 400 mila tonnellate per le rinfuse liquide, cioè il settore petrolifero, mentre calano le merci varie, meno 6,7%, con 14 milioni e 943 mila tonnellate movimentate. Il comparto Rorò scende a poco al di sotto delle 250 mila unità transitate, meno 6,8%, e le toccate dell'autostrada del mare che collega la Turchia a Trieste passano a 665 rispetto alle 723 dell'anno scorso. Meno accentuata la flessione dei contenitori, meno 3,77%, per 708.537 TU. In controtendenza il singolo mese di ottobre, che segna il più 5,3% per i contenitori rispetto a ottobre 2022 e il più 1,4% per il traffico ferroviario. Il porto di Monfalcone archivia invece i primi dieci mesi con una crescita a doppia cifra, più 11,3% e una movimentazione complessiva di 3.334.000 tonnellate di merce. Tutto il sistema ferroviario, gestito dall'autorità portuale, tra porti e interporti, nei primi dieci mesi supera i 10.500 treni.